Uomini e donne, la reazione di Soraya Ceruti è sulla fine della sua storia con Luca Salatino. Negli ultimi giorni Luca Salatino e Soraya Ceruti sono nel mirino del gossip per alcune indiscrezioni che li vedrebbero in forte crisi. Secondo alcuni voci, che arriverebbero da Como, la città in cui vive l'ex corteggiatrice di uomini e donne. Scelta dall'ex vippone nel corso del suo percorso all'interno del dating show, la donna avrebbe un altro uomo. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in diretta di Yanira Marzano, l'influencer esperta di gossip. In merito a una presunta relazione di Soraya con un imprenditore di Como. Sembrerebbe che dopo l'uscita di Luca dalla casa del grande fratello vi pari dosso delle festività natalizie. I progetti che la coppia aveva in mente siano andati in fumo. I due avevano intenzione di andare a vivere insieme e avevano trovato anche un appartamento. Appartamento in cui sembrerebbe stando ai pettegolezzi che Soraya Ceruti non ci abbia mai messo veramente piede. I rumor dicevano hanno preso il sopravvento, in virtù anche del fatto che i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi da un paio di mesi non si fanno vedere insieme sui social. Da tempo non appaiono foto di coppia, e i fan più attenti hanno notato che non interagiscono più. Come stanno davvero le cose? Nessuna conferma né smentita ufficiale è arrivata dai due. Tuttavia, mentre Luca Salatino nelle ultime ore è apparso in compagnia di Andrea Maestrelli. La Ceruti ha postato una storia a Instagram che sembrerebbe una risposta a tutte le voci di corridoio che si susseguono in clementi. La 29enne di origini egiziane ha postato una foto in cui ride, aggiungendo la didascalia. uno.